Iniziativa della Prefettura di Pescara contro il fenomeno delle truffe subite dagli anziani, presentato alla stampa l'anteprima di un volantino che sarà diffuso attraverso i sindaci della provincia. Suggerimenti, consigli e numeri utili per rafforzare la prevenzione, sostenendo le persone più fragili, spesso vittime di raggiri e azioni illecite, che sfruttano l'effetto sorpresa e la buona fede. Ma ascoltiamo una breve dichiarazione del Prefetto Giancarlo Di Vincenzo. L'appello a tutti, innanzitutto alle comunità, a tutti, in modo da far sì che, elevando un'attenzione sui comportamenti quotidiani, si possa, come dire, prevenire quell'effetto sorpresa che spesso è la base della truffa agli anziani.